Buongiorno carissimi, oggi sono tornata con il consueto appuntamento dei libri letti del mese. Di un libro vi ho già parlato perché ho fatto la recensione. Si tratta di storia di una ladera di libri. Per chi non l'avesse visto o per chi fosse comunque interessato vi lascio il link al video giù nell'info box. Questo è stato un mese piuttosto tranquillo perché ho letto soltanto due libri. Uno è appunto storia di una ladera di libri e secondo un grande classico della letteratura statunitense non solo. Sto parlando del grande Gatsby di Scott Fitzgerald. L'ho già sentito parlare spesso però non l'avevo mai letto. Ho detto ma sì proviamo a prenderlo e vedere se è un tipo di lettura che può piacermi oppure no. Allora l'ambientazione è quella della New York degli anni 20. Il protagonista compra a casa New York e il suo vicino, questo appunto Gatsby, ha una mega villa in cui tutte le sere, per tre mesi d'estate in pratica, organizza questa mega feste. Lui non lo conosce personalmente, lo conoscerà tempo dopo e diventeranno poi amici. Questo personaggio viene appunto descritto come grandioso, pieno di soldi, straricco, che abita sia il proprietario della villa, ma abita su uno yacht sul mare. Poi vengono descritte molto bene queste feste, con questa atmosfera ferivola tipica degli anni 20. Però a mano a mano che si va avanti con il racconto, Fitzgerald è riuscito a descrivere perfettamente, diciamo un po' un retroscena, un po' dell'alta borghesia o comunque dei ricchi della società, e non solo dei ricchi, non solo degli animetti, ma diciamo che si può ritrovare anche nella società contemporanea, e cioè che dietro tanta ricchezza, molto spesso, si nascondono invidie, intrighi, cattiverie e anche tanta solitudine, perché alla fine, mano a mano che si va avanti, si capisce che questo Gatsby è diventato ricco un po' da solo, cioè si è fatto da solo, come si suol dire, e lui si è comprato questa megavilla e organizzava tutte queste feste soltanto per dimostrare alla donna che amava che lui era del suo stesso accetto sociale, che era alla sua altezza, che... insomma, per dimostrare di essere qualcuno, e che però alla fine era tremendamente solo. Quindi è riuscito molto bene, secondo me, a descrivere appunto la solitudine, la mania di apparire, di voler essere qualcuno, e anche appunto la solitudine. Sotto questo punto di vista mi è piaciuto, come ho saputo descrivere questa cosa, però diciamo che non è un tipo di lettura che mi piace proprio, insomma, preferisco altri generi. Non dico che non mi piace, però... Non lo so, sarà perché appunto preferisco altri generi letterari, quindi non mi ha convinto fino in fondo. Cioè, quindi non saprei cos'altro aggiungere. Per carità, c'è anche chi piace questo tipo di lettura, eh, però... Appunto, a parte come ho saputo descrivere quest'atmosfera un po'... frivole degli alimenti, con... Nella solitudine, le macchine azioni che ci possono essere dietro, a parte questo non mi ha convinto del tutto. Lo so, questo è un video un po' corto, però... Appunto, volevo farvi vedere i libri che ho letto, e volevo ringraziare tutti coloro che si sono iscritti al mio canale e che guardano i miei video. Grazie veramente a tutti, un bacione. Ciao! Grazie a tutti.